a tempo scaduto all'ultima azione più o meno Immobile se ne esce con un rigore trasformato perfettamente ma soprattutto Milenkovic se ne esce con un rigore causato goffamente goffamente perché si perde Vesino e non soltanto se lo perde per sentire ancora in qualche modo la sua presenza lo va a cercare e Vesino che è più furbo e sicuramente più fortunato gliela butta addosso rigore netto che Immobile non sbaglia e quindi 1-0 Lazio al 95esimo tre punti pesantissimi tre punti pesantissimi che però concedetemelo vanno a chi se l'è cercata fino in fondo questa vittoria perché alla fine si è visto quasi un tempo a testa primo meglio la Fiorentina secondo meglio la Lazio ma la Lazio fino in fondo ci ha creduto la Fiorentina si è resa quasi si è accasciato se dire metaforicamente parlando al 60esimo la Lazio invece fino in fondo fino alla fine martellando ha trovato questo gol e comunque prima di parlarne iscrivetevi lasciate tanti like e tanti commenti qui sotto e seguitemi anche sugli altri due social che utilizzo ovvero Instagram e TikTok link in bio detto ciò allora una partita che mi aspettavo un po' più in qualche modo ricca di occasioni perché Italiano e Sarri tutto ci si può dire tranne che comunque sono due che giocano un calcio speculativo difensivo mettetela un po' come vi pare e invece comunque sì è vero qualche occasione c'è stata più di qualche la Lazio ha avuto due belle palle gol nel secondo tempo due grandi miracoli comunque di Terracciano però mi aspettavo qualcosa in più anche che ne so un risultato più roboante un 2 a 0 un 3 a 0 l'anno scorso Sarri schiantò al franco italiano 4 a 0 secco senza neanche storia invece quest'anno comunque partita abbastanza bloccata con le squadre che sembravano quasi la Fiorentina più che altro accontentarsi di questo pareggio invece la Lazio fino alla fine ha martellato un primo tempo non buono secondo me di Sarri in cui è mancato un po' di fantasia è mancato un po' soprattutto Luis Alberto che nel secondo si è acceso sicuramente un po' più del primo tempo molto molto moscio e infatti comunque quando si è accesa quella luce la Lazio di conseguenza tutta si è accesa un primo tempo in cui la Fiorentina fa anche un gol con Beltran migliore in campo per me De Viola che fa un gol prende un palo poi sparisce un po' come tutta quanta la Fiorentina nel secondo è quasi soltanto Lazio sì la Fiorentina qualche sparuta occasione qualche sparuta diciamo potenziale occasione l'ha anche avuta però poca roba sostanzialmente poca roba Sarri fa i cambi tardivi ma li fa e sono cambi decisivi perché c'è Pedro che propizia in qualche modo insieme a Vesino in rigore e perché c'è Immobile che quel rigore lo butta in porte e fa 1-0 ora questa partita lo so che ritirerà fuori il tema Castellanos Immobile perché Castellanos si è mangiato un gol clamoroso che poi fosse fuori gioco no non lo so però quel gol andava fatto Immobile è entrato e con carattere ha fatto gol però questo non cambia la mia idea ovvero che Immobile in questo momento non sia un valore aggiunto per la Lazio poi che comunque abbia avuto le palle di calciare e disegnare al 95esimo sotto la Nord quel rigore per carità viene dovato però secondo me Castellanos in questo momento è più funzionale alla Lazio parlando invece un attimo della classifica perché è anche giusto farlo visto che stiamo a novembre e comunque sono due mesi e passa che è cominciato il campionato la Lazio è settima in classifica ha fatto 16 punti in 10 partite bottino abbastanza magro in realtà perché ha perso di fatto per strada il 50% dei punti però leggermente in risalita vedo nelle ultime 5 partite 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta alla fine comunque ci può anche stare, ci può anche stare quello che vi dico è che sicuramente, sicuramente la Lazio è partita lenta però si è ripresa ho visto per me il punto di svolta in Italia perché in Europa è un discorso a parte e secondo me in Europa la Lazio soffre tantissimo e soffrirà ancora e non escludo che possa uscire già ai gironi ma in Italia in campionato il punto di svolta è stata la partita contro l'Atalanta invece la Fiorentina oggi l'ho vista un po' rinunciataria avete visto, avete presente, è vero che ha giocato giovedì per carità però avete visto la Fiorentina martellante contro il Napoli ecco tutto il contrario di oggi oggi Fiorentina molto più moscia che è partita anche bene ma che si è quasi arresa non ce la faccio la Fiorentina ad arrendersi così quasi a chiudersi cercando il pari boh mi ha fatto strano però comunque Fiorentina che resta comunque davanti resta 17, resta sesta vediamo sta perfettamente in linea anzi anche qualcosa in più con gli obiettivi quelle che però stanno al momento deludendo al primo scaglione di campionato agosto, settembre, ottobre sono sicuramente le Romane anche se devo dire la Lazio è in ripresa e la Roma no che sia meglio per il derby boh di solito lo vince e così vi lascio chi gioca peggio e chi lo sa quest'anno comunque prima di chiudere definitivamente iscrivetevi, lasciate like e commento qui sotto e mi raccomando seguitemi anche su TikTok ed Instagram ciao